Quando si dice una successione limite A con N è uguale a L vuol dire che la successione converge ad L oppure A per limite L ma la domanda è quanti limiti può avere una successione? la risposta è o 0 può anche non avere limite quindi c'è quanti 0 significa che non ha limite non che il limite è 0 o non ha limite o ha limite in questo caso il limite è 1 non possono essere due numeri diversi questo fatto si può dimostrare allora, teorema unicità del limite prendiamo la successione di numeri ideali supponiamo vedete che già adesso ho cominciato a non scrivere più appartenente a N N, costatore in N, grande il numero naturale limite di A con N uguale a L1 appartenente a R e limite di A con N sia uguale a L2 appartenente a R qual'è la tesi? qual'è la tesi? secondo voi? queste sono le ipotesi HP HP è ipotesi TH è tesi a volte scrivo tesi a volte scrivo TA allora, per ipotesi ho preso una successione che converge contemporaneamente sia a L1 che a L2 cosa potrò mai voler dimostrare? secondo voi che cosa voglio dimostrare? L1 è uguale a L2 L1 è uguale a L2 cioè io sono partito dall'ipotesi che una successione converga a due numeri se ogni volta che converge a due numeri diversi hanno due numeri dimostro che sono uguali allora non può mai convergere a due numeri diversi se ci metto L1 quella definizione funziona se ci metto L2 quella definizione funziona converge sia a L1 che a L2 eh però poi alla fine vedi che L1 e L2 non si può quindi in realtà il limite attenzione, questo non mi dice che la successione abbia limite se io prendo meno 1 alla L quella non converge né a L1 né a L2 quella non converge e basta questo teorema infatti non si chiama teorema di esistenza ma si chiama teorema di unicità del limite dice che se esiste il limite è unico cioè se ne esistono due sono uguali la dimostrazione si fa per assurdo per assurdo sia L1 diverso da L2 e sia epsilon uguale il valore assurdo di L1 meno L2 faccio una figura qua c'è L1 qua c'è L2 questo è epsilon questa è la differenza qui la lunghezza di questo segmento qui è epsilon allora dico io so allora faccio due ragionamenti uno sotto l'altro poiché il limite di A con N è uguale a L1 esiste un indice ni con 1 tale che N è più grande di ni con 1 allora A con N meno L1 è minore qua devo stare attento invece di metterci epsilon ci metto epsilon terzi qui comincio nei giochi posizionali perché epsilon terzi perché dice tu mi hai fissato epsilon che è un numero positivo perché positivo perché L1 era diverso da L2 se L1 era uguale a L2 era uguale a 0 ma se L1 è diverso da L2 poi questo deve essere diverso da 0 ma allora io quando vado a trovare il ni con 1 non mi regolo su epsilon prima lo divido per 3 e faccio epsilon terzi e poi mi regolo su epsilon terzi siccome la definizione dice per ogni epsilon va bene anche se ci metto epsilon terzi ok? quindi io ni con 1 lo trovo a mi diciamo in maniera tale che se N è più grande di ni con 1 questo sia minore di epsilon terzi che significa? allora questo è circa un terzo della distanza vuol dire per N maggiore o uguale di ni con 1 A con N sta qui sta qua dentro perché è compreso scrivere così equivale a dire A con N compreso tra L1 meno epsilon terzi e L1 più epsilon terzi scrivere questa che la distanza è meno di epsilon terzi significa scrivere che A con N è compreso L1 meno epsilon terzi e L1 più epsilon terzi qua non ci scrivo che questo è L1 più epsilon terzi e L1 meno epsilon terzi ma si capisce perché se non la... poi andando a scrivere anche quello qua non si capisce adesso faccio qui sotto lo stesso ragionamento con L2 io so che anche il limite di A con N fa pure L2 poiché il limite di A con N fa L2 esiste un indice che chiamerò N con N con 2 tale che se N è più grande di N con 2 allora A con N meno L 2 è minore di epsilon terzi cioè A con N sarà compreso pure tra L2 meno epsilon terzi e L2 più epsilon terzi L2 meno epsilon terzi L2 più epsilon terzi è questo intervallo qui quindi per N più grande di N con 2 A con N sta qui questa zona qui vedete un problema? intuite un problema? allora diciamo per N maggiore di 100 A con N sta qua su per N maggiore di 1000 A con N sta qua su e com'è possibile? se io prendo N più grande sia di 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 con 1 che di di con 2 A con N dovrebbe stare sia qui che qui è possibile? no perché i due insiemi sono disgiunti allora come si svolge questo ragionamento? adesso diciamo sia N uguale al massimo tra N con 1 e N con 2 se N è più grande di N cosa succede? che Epsilon vi ricordo che Epsilon è L1 meno L2 questo lo posso scrivere come L1 meno A con N più A con N meno L2 per la disuguaglianza triangolare questo è minore di L1 meno A con N più A con N meno L2 il valore assoluto della somma è meno uguale alla somma dei valori assoluti ma questo è il primo è beh è il valore assoluto dell'opposto ma è lo stesso perché il valore assoluto del numero del suo opposto sono uguali quindi il primo è minore di Epsilon terzi il secondo è minore di Epsilon terzi e qua mi viene 2 Epsilon terzi ma qual è il problema? è che questo è assurdo dico qua assurdo perché è assurdo? perché Epsilon che è un numero positivo non può essere minore di 2 terzi Epsilon chi è più grande? Epsilon o 2 terzi Epsilon? è ovvio che se un numero positivo lo moltiplico per 2 terzi scende il mi casale quindi qua invece ci sta scritto che Epsilon è minore di 2 terzi Epsilon quindi questo è assurdo da dove è nato l'assurdo? dall'avere ipotizzato che L1 fosse diverso da L2 quindi L1 deve essere uguale a L2 fino all'inizio cioè praticamente io ho detto se A con N stava in tutte e due per fare la distanza da L1 da L2 io facevo la distanza da L1 dalla con N dalla con N da L2 tutte e due le distanze erano minore di Epsilon terzi e la distanza in totale non poteva superare due volte Epsilon terzi però d'altro canto la distanza sapeva che faceva Epsilon e quindi ho l'assurdo proprio perché questi due insiemi sono disgiunti se invece se questi qua si toccavano gli insiemi allora questa distanza qua era minore di 2 Epsilon terzi ma questa distanza qua Epsilon questo si chiama teorema di pubblicità del limite quindi noi cosa sappiamo su questa definizione non sappiamo se il limite esiste ma sappiamo che se ci sta è uno solo è chiaro? ok adesso andiamo a vedere un altro teorema che è un teorema tipicamente da sovrannome tipicamente italiano che si chiama teorema in realtà si chiama teorema del confronto però in Italia è più spesso noto come teorema dei due carabinieri teorema dei due carabinieri ritengo che non sia offensivo perché questo costo sta scritto sui libri di testo da decine di anni quindi se l'arma dei carabinieri si fosse offesa l'avrebbe fatto sapere allora cosa dice questo teorema dei due carabinieri dice che voi avete tre successioni allora siano A con L B con L tre successioni di numeri reali tali che A con L sia compresa tra B con L e C con L per ogni n appartenente a n in realtà basterebbe da un certo indice in corpo scriviamo così questa è l'ipotesi quindi avete tre successioni una che sta in mezzo una più piccola e una più grande poi avete un'altra ipotesi l'altra ipotesi è che il limite di B con L è uguale al limite di C con L che fanno tutte e due L cioè avete che la successione più piccola fatta da numeri più piccoli converge a L la successione fatta da numeri più grandi pure converge a L che potrà mai fare la successione che sta in mezzo quale sarà la tesi secondo voi il limite di A con N farà L pure lui chiaro? la dimostrazione qua è ancora più ricalca come schema quello di prima ma non c'è bisogno della dimostrazione per la scuola allora io dico sia ε maggiore di 0 cosa devo dimostrare che per ogni ε quindi ho fissato ε devo trovare il n tale che a con N meno L sia minore di ε per ogni N maggiore di 0 allora cosa sono? allora scrivo qua poiché il limite per N che tende a infinito di B con N è uguale a L esiste un indice che chiamo n con 1 tale che se N è più grande di n con 1 allora B con N è compreso tra L meno ε ed L più ε ma è la stessa cosa questo spero che su questo almeno ci siamo scrivere che la distanza di due valori è minore di ε che uno è compreso tra l'altro meno ε e l'altro più ε stanno la stessa cosa poiché se il limite il limite di C con N è uguale a L esiste un altro indice che chiamiamo n con 2 tale che se N è più grande di n con 2 allora C con N è compreso tra L meno ε ed L più ε adesso dico sia N un'altra volta il massimo tra n con 1 e n con 2 perché devo prendere il massimo tra n con 1 e n con 2 perché io voglio usare questa disuguaglianza qui che vale quando N è più grande di n con 1 queste disuguaglianze qui e anche queste disuguaglianze che qui che valgono da n con 2 e poi allora se N è più grande di n io che cosa so so che A con N era più grande di B con N sempre ed era più piccolo di C con N sempre ma siccome N è più grande di n che è più grande di n con 1 B con N a sua volta diciamo di B con N mi interessa solo questa disuguaglianza qui so che è maggiore di L meno ε ma siccome N è maggiore uguale di N che è più grande di N con 2 so che C con N è minore di L più ε di C con N mi interessa solo questa disuguaglianza qui quindi A con N è compreso tra L meno ε ed N lo è ε fino alla dimostrazione perché sottolineo per ogni ε ho trovato un N chi è questo un N il massimo tra questo n con 1 e questo esiste n con 1 esiste n con 2 esiste anche il N che è il massimo tra n con 1 e n con 2 tale che se N è più grande di N allora a con N è compreso tra L meno ε e la stessa cosa che è quello che dovevo dimostrare cioè esattamente la definizione di successione di commeggio N per ogni ε esiste il N tale che se N è più grande di N allora ma con E è compreso tra L meno ε e la stessa cosa ok? ok? quindi perché questo teorema si chiama dei due carabinieri? è un po' per suggeriti l'idea in realtà questo teorema si chiama teorema del confronto allora l'idea è questa voi avete A con N che sta in mezzo tra B con N e C con N B con N e C con N fanno come i carabinieri che acchiappano indiziato e lo acchiappano uno da destra sotto braccio e uno da sinistro poi se C con N va alla stazione dei carabinieri se B con N va alla stazione dei carabinieri A con N che sta stretto in mezzo è pure lui costretto ad andare dove vanno è chiaro che se C con N e B con N non vanno allo stesso posto uno tira di qua uno tira di là e A con N poi alla fine scappa ma se invece quelli vanno tutti e due ad L allora A con N che sta in mezzo non può far altro che andare a E pure lui ok va bene allora facciamo un attimo di riepilogo noi che cosa abbiamo visto cosa abbiamo visto abbiamo visto che c'è una definizione un po' articolata un po' complicata che cattura il fatto che quando N è grande gli elementi di A con N della successione di A con N si avvicinano a D questa definizione per ogni Epsilon maggiore di zero esiste un I tale che se N è maggiore o uguale di N A con N meno L è minore di Epsilon ci dice che il limite noi la sintetizziamo dicendo che il limite di A con N è uguale a E oppure che A con N è uguale a Epsilon cosa abbiamo scoperto che ci sono successioni che hanno limite e successioni che non ce l'hanno per esempio la successione uno su N tende a zero la successione meno uno alla N torna limite ma abbiamo scoperto che se il limite c'è può essere uno solo una successione non può tendere a due e tendere a tre che altrimenti si dovrebbe trovare in due posti vicino a due vicino a tre ma con N per N abbastanza grande dovrebbe essere sia vicino a due sia vicino a L1 che vicino a L2 e ciò non è possibile poi abbiamo scoperto che se una successione sta in mezzo tra altre due in mezzo nel senso del confronto perché siamo sui numeri reali in mezzo ad altre due e queste altre due convergono entrambe ad L la successione che sta in mezzo non può far altro che convergere ad L pure a lei adesso finita questa parte preliminare ci interessa studiare le proprietà algebliche dei limiti del confronto del confronto di v v Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A con n è maggiore di 0. La dimostrazione è talmente semplice che la possiamo fare in questa mezza riga. Dimostrazione. Sia epsilon uguale a L mezzi. Esiste un indice n, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora A con n è compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon. Lo voglio scrivere al contrario. Cioè è la stessa cosa, è scritta solo così. Per quale motivo qua ho più spazio? L meno epsilon uguale a L meno L mezzi che fa L mezzi che è positivo. Quindi vedete che esiste un indice n, tale che se n è maggiore o uguale di n, A con n è maggiore di... Cioè se una successione converge a 3, da un certo punto in poi deve essere positiva. Perché se fosse, diciamo, se non fosse definitivamente positiva, cioè se ogni tanto avesse dei valori negativi, come farebbe a commerciare a 3? Allora, corollario. Allora, supponiamo che A con n sia una successione di numeri negativi per ogni n. Allora, supponiamo che il limite di A con n sia L. Allora, attenzione, io sto supponendo che abbia limite. Allora, L deve essere per forza meno qua di 0. Questa dimostrazione è talmente semplice che ve la fate per esercizio. Perché ve la dico a voce, come ve la potete rivedere sulle video lezioni, però. Per assurdo, se il limite fosse positivo, la successione dovrebbe essere definitivamente positiva. Ma in realtà è sempre di negativa e non può essere. Dovrebbe essere definitivamente maggiore di 0. Ma siccome è sempre meno o uguale di 0, questo gli dà un altro punto. Ambe due, sia questo che questo, vanno sotto il nome di termine della permanenza del segno. Quindi quando invocheremo il termine della permanenza del segno, in questa lezione o in questa lezione, dovete conoscere bene tutto e tutto. vi posso riferire tanto a questo, quanto a questo. Quindi, questo è un altro piccolo paletto che abbiamo fissato. Se una successione commercia un numero positivo, da un certo punto in modo deve essere fatta un numero positivo. non può essere sempre negativa. Allora, se io sono sempre affomio, sempre affomio, sempre affomio, guarda lì, il limite è cassino. No, non può essere. Chiaro? Ok, adesso andiamo a scrivere le proprietà algebriche dei limiti, facciamo tutto il quadro e poi, semplicemente, la dimostrazione la facciamo dopo la pausa. Però, denunciato, la facciamo. Quindi dobbiamo cancellare. Allora, proprietà algebriche nei limiti, allora diciamo, sia sia no, allora prendiamo A con N, una successione di numeri A, tale che il limite di A con N faccia L, una successione di numeri reali, tale che il limite di B con N faccia M, sempre numero reali, poi siano lambda e mu e altri numeri reali a piacere. Allora, un limite di lambda volte A con N fa lambda volte N, qui si dice che moltiplicando la definizione della successione che sta scritta a sinistra, la do per ovvia, chi è la successione lambda con N? Quella che è uguale a lambda con N per ogni N, quindi la successione lambda con N convergeva L, che succede se moltiplico tutti i numeri di A con N per lambda? come c'è la lambda? Limite di A con N più B con N fa L più M, allora questo è la fattina R, questo è la fattina R, e questo è la fattina R, e questo è la fattina R, 4, limite di A con N per B con N fa L per M, 5, se M è diverso da 0, quindi fino almeno non ci serve per nessuna ipotesi ulteriore, ma per il 5 serve che se il limite di B con N è diverso da 0, esiste un indice N0, tale che se N è maggiore o uguale di N0, A con N su B con N è definita, allora il limite per N che tende a infinito, A con N su B con N è uguale a L su M, che è un numero reale, anche questo è un numero reale, allora questo teorema è il teorema più semplice del mondo, ci dice, cioè da memorizzare, da dimostrare qualche piccola difficoltà, ma da memorizzare, ci dice che l'operazione di limite condotta su una successione rispetta le operazioni algebliche, cioè ci dice che se io moltiplico la successione per una costante, la costante passa fuori, cioè la successione convergeva a 7, moltiplico ultimamente la successione per 3, la nuova successione convergerà per 1, 3 per 7, se convergeva ad L, la moltiplico per lambda, convergerà a lambda L, poi ci dice che se la prima successione convergeva ad L, la seconda convergerà a M, la successione è somma, cioè la successione i cui elementi sono la somma di A con N più P con N, convergerà a L più M, come si enuncia questo? Il limite della somma è uguale alla somma dei due. Il combinato disposto del numero 1 e del numero 2 ci dà il numero 3, perché se A con N convergerà a L, lambda con N convergerà a lambda L, P con N convergerà a M, la somma di queste due convergerà a lambda L più M, quindi il 3 non è altro che un corollario, noi non abbiamo ancora dimostrato né la 1 né la 2, ma qualora dimostriamo la 1 e la 2, la 3 è ovvia, lo scriveremo ma è ovvia, cioè segui direttamente da 1 e 2, la 3 dice che si può enunciare dicendo che l'operazione di limite rispetta quelle che si chiameranno combinazioni lineari, cioè quando io metto questi qua, lambda e mu davanti ad A con N e P con N e B con N e lì su mostro, si dice che sto facendo una combinazione lineare di A con N e P con N allora il limite della combinazione lineare è la combinazione lineare dei limiti, cioè è lo stesso tipo di somma con i coefficienti lambda davanti a L e mu davanti a L 4 e 5 sono simili, ci dicono che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti vedete qua c'è la successione prodotto in cui ogni elemento ennesimo si ottiene facendo il prodotto di A con N per P con N e il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti e il limite del rapporto è uguale al rapporto dei limiti, però attenzione qua c'è solo un punto delicato, quando faccio il rapporto B con N va denominatore allora io devo essere sicuro che B con N non sia 0 per poter fare il rapporto ma se vi ricordate il terreno della permanenza del segno da un certo punto in poi B con N se converge a un numero diverso da 0 non è 0, cioè se converge a un numero positivo da un certo punto in poi è positivo se converge a un numero negativo da un certo punto in poi è negativo quindi da un certo punto in poi questo rapporto si può fare i primi elementi ve li definite come li pare perché non sono significa, diciamo il limite dipende soltanto dal comportamento asintotico della successione comunque insomma quando andiamo a fare la successione del rapporto questa si può fare e comunque la definite per N minore uguale a N0 convergerà al rapporto dei limiti, cioè il limite del rapporto con il rapporto dei limiti quindi il tutto questo qua è un diorema facile nel senso è facile da memorizzare è facile da strutturare, è facile da inquadrare, è facile da ricordare può al limite per qualcuno di voi presentare qualche difficoltà in qualche passaggio della dimostrazione ma tutto qua da capire, da ricordare, da applicare è un diorema facilissimo perché effettivamente il limite rispetta tutto quello che possiamo fare rispetto alle sue, rispetto ai prodotti, rispetto ai rapporti e rispetto alla moltiplicazione per una costante risposta ok? Va bene, allora prima di dimostrare questo diorema facciamo una piccola pausa